Oh che bel castello, Marco, un dirondi, rondello Oh che bel castello, Marco, un dirondi, rondello Oh che bel castello, Marco, un dirondi, rondello Abbiamo deciso di mostrare tutti i giochi che nel corso degli ultimi anni l'associazione ha realizzato sono giochi di manualità, di logica noi li abbiamo segnalati come per i bambini in realtà molti di questi sono assolutamente praticabili anche da adulti anzi sono abbastanza complessi ma è un modo per far conoscere il castello sotto una forma diversa quindi giocando, divertendosi, non partecipando ad una mostra statica ma interattiva, quindi utilizzando direttamente tutte le cose che sono esposte Abbiamo provato a ricreare dei disegni utilizzando l'anamorfosi cilindrica che come nome, un parolone grande, in realtà è un elemento geometrico non così complesso un disegno che parte da un piano cartesiano viene spostato su un piano polare, quindi con delle parti a cerchio, con dei raggi da qui si crea una figura che sembra scomposta, sembra strana con un cilindro centrale rivestito di una carta a specchio si rivede la figura così come è in origine a parole sembra complesso, in realtà bisogna venire a vederlo provare a realizzarlo perché abbiamo creato un tavolo di laboratorio per bambini più o meno grandi con maggiore difficoltà o meno difficoltà a seconda dell'età del bambino dove potranno creare loro un'anamorfosi di una serie di figure sia geometriche che no ricordiamo comunque che questa mostra che inaugura oggi sarà aperta tutte le domeniche fino all'11 di ottobre dalle 15 alle 19. Se poi ci fossero dei gruppi, delle scolaresche che hanno piacere di venire a visitarla durante la settimana noi siamo disponibili previa prenotazione ovviamente E non si tratta comunque dell'unico evento organizzato dall'Associazione degli Amici del Castello di Malgrà per questo autunno È vero, è vero, allora primo fra tutti in occasione della festa patronale di San Michele l'ultimo weekend del mese di settembre il giovedì sera saranno aperte le chiese del Santissimo Nome di Gesù quella di San Rocco e Paolo e Carlo la chiesa di San Francesco con le visite guidate in versione notturna e poi a chiusura della stagione che sarà poi l'11 di ottobre apriremo di nuovo il castello allo scambio dei libri e quindi giornata di book crossing sia per adulti che per bambini con presentazione di libri, laboratori e quant'altro insomma un po' una festa di chiusura del castello che si è iniziata